Ciao a tutte, oggi parliamo di Oral Technique Art Lisse Pompà, una crema gel che ci aiuterà a funare tutti i nostri capelli fini, privi di volume. Anche qui abbiamo l'utilizzo e il beneficio di due prodotti in uno, della crema e del gel. Vi spiego subito perché. La crema aiuterà a dare l'idratazione, il volume alla nostra radice e comunque a mantenere la nostra capellatura voluminosa e idratata, mentre il gel ci darà il beneficio della tenuta nella durata della nostra piega e soprattutto comunque a mantenere e fissare il volume che con la piega ne andremo a dare. Quindi usiamola tranquillamente, va benissimo per qualsiasi tipo di messa in piega, mossa, liscia o comunque anche solo con spazio e le phone, comunque va benissimo laddove abbiamo bisogno di volume, perciò una piccola quantità da cappello bagnato, applichiamola tranquillamente anche in radice, sia con l'utilizzo delle mani o se vogliamo con il pettine e passiamo la nostra piega in totale tranquillità. Una kit in più di questo prodotto che ci aiuta a mantenere l'effetto della nostra piega e del volume fino a un massimo di 72 ore e in più protegge anche dal calore dell'utilizzo di phone o piastre, quello che noi vogliamo usare nella nostra messa in piega. Ragazzi ricordatevelo, grazie mille.